amici oggi vorrei parlare di marketing dunque guardiamo che cos'è il marketing il marketing è lo studio del mercato in cui tu vuoi operare lo studio della clientela che tu vorresti raggiungere lo studio dei concorrenti nell'ambito del prodotto che tu stai realizzando lo studio della propria realtà azientale e lo studio del dei prodotti che stai facendo e bene tutte queste cose messe insieme ti fanno immaginare una strategia che deve avere il compito di presentare al meglio i tuoi prodotti e di presentarli in maniera tale che siano più appealing rispetto a quelli di altri che fanno i prodotti del tuo stesso genere però il marketing deve partire da un presupposto iniziale fondamentale che deve partire dalla verità cioè tu non puoi fare uno studio di marketing e poi realizzare una strategia di marketing partendo da una bugia faccio un esempio a caso tu non puoi dire e cercare di dimostrare e affermare che il tuo prodotto il migliore di tutti gli altri che il tuo prodotto è nato prima di tutti gli altri che il tuo prodotto ha delle caratteristiche che gli altri non hanno pur essendo consapevole che il tuo prodotto non ha quelle caratteristiche di più di quelle che altri hanno ecco questo non è marketing questo è un marketing fake è il fake marketing guardatevi intorno nel mondo editoriale della piccola in media editoria e ditemi un po se non avete individuato se non individuate una sorta di fake marketing anzi facciamo un giochetto andiamo a caccia del fake marketing editoriale editoriale